Siamo qui a parlarvi di Spike by Takeoff Pro, questa nuova macchina spara palloni che stiamo utilizzando in palestra da un po' di tempo e con cui ci troviamo molto bene. È una macchina che presenta una alta precisione e stabilità durante gli esercizi e questo comparandola con altre macchine utilizzate precedentemente ci permette un migliore lavoro tecnico. Questo succedeva ad esempio con altre macchine che in caso di interruzione dell'esercizio o di correzione tecnica a un singolo giocatore quando si riprendeva poi ad utilizzare i palloni si perdevano vari secondi e varie ripetizioni per ritrovare la stessa pallo, la stessa stabilità. Questa invece è una macchina che anche se si interrompe per 30 secondi l'esercizio, quando si riprende ha un'alta precisione quindi permette di lavorare con maggior ritmo e di fare un lavoro tecnico migliore. È una macchina che non rovina i palloni, altra cosa non secondaria perché ha dei rulli molto buoni che non rovinano i palloni e anche molto sicuri, quindi per esempio la facciamo utilizzare anche alle giocatrici, non c'è pericolo di infortunio o di problemi alle mani assolutamente. Si può utilizzare sia per il lavoro tecnico di ricezione, riproponendo la battuta in salto spin e la battuta float. Si può lavorare per la difesa, noi la utilizziamo molto negli esercizi di difesa ed è una macchina molto maneggevole, molto facile da spostare in palestra, utilizza delle batterie quindi non ci sono cavi, non ci sono intralci durante gli esercizi e questo permette appunto di spostarla da un punto all'altro la palestra con facilità.